Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla statale 223 di Paganico il traffico è bloccato per un veicolo in fiamme a un chilometro da Civitella Marittima. Sulla statale 12 della Betone e del Brennero, tratto chiuso per Caduta Massi all'altezza dell'incrocio di Giardinetto, viabilità deviata in loco. In A1 perdita di carico tra Valdichiana e Chiusi-Cianciano in direzione Roma. Sulla statale Trebbis-Tiberina riduzione di carreggiata per lavori tra Verghereto e Canili. Per la giornata di oggi è stato proclamato uno sciopero di 4 ore fino alle 16, che interesserà il servizio pubblico gestito da CTT Nord a Pisa e Provincia. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!